... ... Ancora la Roma in contropiede al ventiduesimo con Gerolin, ma Nucciari questa volta sventa l'insidia. ...di Bertoni, ottimi l'intuito e la scelta di tempo di Nucciari. Rilanciamo anche con i centrocampisti, oggi è venuto buonissime occasioni anche, soprattutto. mentre Lombardo è impegnato più a controllare l'avanzante Sergio che speranze e nuovi attacchi con il portiere bluciarchiato Luciari spesso decisivo l'etica dei Lombardi unita alla classe super di Agi forse a Bologna i biancazzurri dovranno cercare di ripetere la grande prova di uno col suo uomo più vivace in attacco Ruggero Rizzitelli ora Zeman per la salvezza preferisce aspettare la matematica Ericsson non solo perché Luciari si riscatterà subito e più volte come su questa gran botta dell'ottimo Schalke la partita non l'ha persa il po' Grazie